Naturalmente lo si trova a vedere tutte le partite in Alta Valle del Tevere, oggi siamo a Città di Castello e siamo con Mauro Maggi, rieletto nel Comitato Regionale Umbro. Ci eravamo lasciati un mesetto fa quando ci aveva detto ci penserò. Come è andata Mauro? Ci ho pensato, ma a parte che può darsi che ci ha pensato qualcuno per me, no a parte scherzi, niente. E' stato un momento particolare in cui non potevo naturalmente ritirarmi perché ci sono dei momenti in cui bisogna anche fare squadra e per fare squadra sono rimasto volentieri con il Comitato Regionale. E' stata una serata pubblicitaria in quanto l'86% di tutte le società dell'Umbria hanno aderito, più cadderito diciamo hanno eletto il Presidente con tutta la sua componente, con tutti i consiglieri. Consiglieri che sono sempre gli stessi, eccetto due nuovi entrati che sono andati a sostituire Luciano Paccamonti che sarà, penso, il delegato del settore giovanile e poi adesso l'altro che mi sfugge il nome che è ecco. E quindi niente, è una serata particolare, è una serata in cui tutte le società hanno espresso, ripeto, il loro voto. Tutte, diciamo quasi tutte perché c'è stata da parte di un Presidente una certa contestazione che però è stata un po' la sua contestazione, non si dice il gioco di parole, è stata contestata da tutti quanti gli altri Presidenti. Però è giusto in una situazione del genere che ognuno possa dire la sua. Allora, giustamente hai premesso qualcuno, forse ci ha pensato per me assolutamente, l'appoggio di società, l'appoggio anche a conferma del buon lavoro fatto nel periodo non totale dell'ultima candidatura. Il progetto, il programma a venire per questo nuovo impegno, Mauro, a livello totale del Comitato Regionale Umbro? Ma certo, sicuramente sì, anche perché se uno deve fare un certo tipo di lavoro, chiamamolo così, lo deve fare con tutte le sue forze. Io mi accingo a farlo sicuramente cercando di stare dietro anche un po' alle esigenze, cercando di risolvere nel mio piccolo qualche problema che riguarda tutte le società dell'Alta Valle del Tevere, sia dalla terza categoria che dall'eccellenza. Anzi, ci sentiamo anche molto più vicini, forse la terza, la seconda, la prima, che non a quelle un po' delle, in un momento così particolare in cui la questione economica attanaglia non solo il mondo, l'Europa e l'Italia, ma anche sicuramente il nostro sport, il nostro settore. Sarà molto difficile andare avanti, però ecco, quello che diciamo ai presidenti, fatelo con la testa, nel senso che, ripete specialmente il presidente, di non mettere a repentaio, diciamo, la sopravvivenza della propria famiglia per uno sport e un gioco, quindi ecco, di farlo con le dovute accortezze e direi che tutti quanti coloro che gravitano in questo settore si rendano conto di questo momento particolare e di cercare di aiutare un po' tutti quanti a poter andare avanti nella maniera più consola. Quindi un impegno e naturalmente un lavorare insieme, soprattutto per rispettare i paletti economici che sicuramente potrebbero mettere in difficoltà la stessa vita di tante società. E chiudiamo con un fare un sunto della Tavale del Tevere. Mauro Maggi è confermato, è entrato Silvano Petturiti con un altro ruolo e poi anche a livello di guide tecniche con Antonio e Gloria Giogli. Sì, sicuramente ecco, può essere un vanto avere, no, nel comitato regionale, personalità, anzi, sono stato molto contento che queste scelte siano state fatte e c'è stato veramente anche il mio appoggio, ma in un secondo momento, quando era stata proposta la candidatura, io naturalmente ho dato il mio parere favorevole, che non è che era poi, diciamo, determinante. Però ecco, sono stato veramente molto contento per Silvano, che è veramente una persona che stimo moltissimo, che ha una grande personalità e, diciamo, con una generosità non indifferente. Per Antonio, che è Giogli, il quale, ecco, spero che durante questo periodo non faccia rimpiangere il suo predecessore. Poi la Gloria, vabbè, ormai la Gloria è diventata un'istituzione, quindi, però ecco, vorrei dire che io metterò tutto il mio impegno, metterò tutte le mie capacità, no, per poter portare avanti questo compito. Fin d'ora dico alle società, se ci sono problemi in cui posso essere d'aiuto, certo, non mi parlate sempre di arbitri, però, per favore, perché lì l'aiuto è molto più difficile, anzi, è quasi impossibile.